Continua il nostro viaggio per Vinitaly e ci fermiamo anche ad ascoltare un po' le opinioni su questa edizione da Colle Moro che è anche un compleanno importante da festeggiare ma ne parleremo dopo per ora parliamo proprio da questa Vinitaly della ripartenza, è davvero una ripartenza? Sperando sì che sia proprio la ripartenza dopo due anni di fermo quindi diciamo che due anni di pandemia che ci riporta qui a questa splendida manifestazione italiana che si affaccia in tutto il mondo quindi noi siamo stati sempre presenti come cantina da almeno 20 anni perché siamo una cantina che ha 61 anni di storia. Una cantina con una tradizione importante e che propone qui a Vinitaly una ampia gamma di etichette e di referenze perché qua lo vediamo in mano, un bianco ma in realtà ce ne sono, ci sono anche i spumanti, c'è rosato, poi ci sono diversi rossi, un'ampia gamma. Sì sì, noi abbiamo un'ampia gamma che va dal Trebbiano che passa per la Cucciola, lo Chardonnay poi abbiamo quattro tipi di spumante quindi c'è il rosè spumante, il pecorino e la passerina fino diciamo ad arrivare al festeggiamento del nostro sessantesimo che abbiamo rifatto un packaging nuovo quindi con l'aiuto anche del nostro delegato al commerciale che si è insediato con noi come nuova amministrazione nel febbraio del 2021. Si chiama Sessantesimo perché appunto c'è scritto anche sull'etichetta e sulla scatola bellissima peraltro 1961-2021. L'anno scorso è stato un anno un po' così, questa è un po' la presentazione ufficiale. Certamente, infatti è stato l'anno scorso il nostro sessantesimo anno quindi noi diciamo che siamo partiti 60 anni fa da una manciata diciamo di viticoltori che hanno costituito questa cantina quindi ne erano 20, infatti se vedete è l'atto costitutivo Questo alle nostre spalle è l'atto costitutivo L'atto costitutivo che si è fatto nel febbraio del 1961 e proprio per festeggiare questa annata gli abbiamo dedicato due linee di vino un monte pulciano e un bianco che è un assemblaggio di uve di chardonnay, pecorino e cococciola Quindi un modo per celebrare e per guardare al futuro con entusiasmo anche perché abbiamo detto prima erano 20 i produttori ha detto e adesso? Adesso siamo 450 soci per un totale di 200.000 quintali macinati con un fatturato che si aggira intorno a 10 milioni di euro Interessante anche il discorso di quando si sono i soci a lavorare all'interno delle cantine Quello che anni fa era quasi una necessità in alcuni casi, in alcune aree agricole oggi è diventata una scelta, una scelta convinta Certamente, sì 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 perché anche i nostri soci adesso c'è anche un piccolo rinnovamento giovanile quindi c'è un ricambio generazionale dove i nostri nonni le avevano generato questa cantina e adesso abbiamo intorno a 100-120 soci che sono tutti imprenditori giovanili quindi che ci danno una mano quotidianamente per la vita della Colle Moro Allora con il sessantesimo auguri e buon compleanno e diciamo che poi ci sarà il centoventesimo Sperando, sì sì come no Ci auguriamo veramente che sia un buon Vinitaly per tutti e che sia veramente una ripartenza perché abbiamo passato veramente due anni di pandemia che ci è costato molto anche in azienda quindi è tutto qua, nella volontà di ripartire tutti insieme Grazie a tutti